Oggi dobbiamo assolutamente parlare del crollo che probabilmente si verificherà oggi di Snapchat, Facebook, Twitter e anche di Google. Benvenuti su Investire con Gus. Ieri dopo la chiusura dei mercati Snapchat ha rilasciato la sua trimestrale e il mercato non ha per niente apprezzato. In questo video andremo a vedere cosa è successo, quali sono stati i risultati di Snapchat, andremo a vedere se sono stati effettivamente così tanto disastrosi o se il mercato sta un pochino esagerando la sua reazione e cercheremo di capire quali sono le implicazioni per Facebook, Twitter e anche Google. Perciò se apprezzate questo super update velocissimo per favore lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Per trasparenza devo dirvi che io ho una posizione sia in Facebook che in Google. In After Hours le azioni Snapchat sono crollate tra il 20 e il 30% dopo aver mancato le aspettative per quanto riguarda i ricavi. La colpa sembra essere dei cambiamenti riguardanti la privacy effettuati sugli iPhone della Apple. Infatti sta diventando sempre più difficile tracciare le abitudini degli utenti perché Apple ha fatto una mossa molto positiva nei confronti dei consumatori, dei suoi utenti, dei suoi clienti, però molto negativa per società come Snapchat, Twitter e Facebook che analizzano i dati degli utenti per proporre loro le migliori pubblicità. Inoltre una cosa a cui non avevo assolutamente pensato, Snapchat ha detto che i recenti problemi alla supply chain e quindi tendenzialmente il fatto che la domanda ecceda l'offerta sta spingendo le società a non voler investire in pubblicità perché non ne hanno bisogno, vendono tutto quello che producono quindi non hanno alcun bisogno di farsi pubblicità. Questa è una cosa molto interessante che non avevo assolutamente considerato. Ma adesso vediamo quali sono stati questi risultati. Praticamente l'utile operazione adjusted è stato di 17 centesimi contro gli 8 centesimi che ci si aspettava, quindi meglio delle previsioni. Invece i ricavi hanno mancato le stime degli analisti per 3 milioni, una cifra veramente ridicola. I daily active users sono stati superiori rispetto alle aspettative, invece l'ARPU, l'average revenue per user, è stato inferiore rispetto alle stime. Probabilmente questo ha spaventato parecchio il mercato. L'ARPU è una metrica che viene molto seguita da Wall Street. Quindi per quanto riguarda questo trimestre i risultati di Snapchat sono stati di fatto ottimi a mio parere. Si hanno mancato un pochino sui ricavi però gli utili per azione sono stati migliori delle stime. Però i colletti bianchi di Wall Street stanno sempre molto attenti a quanto viene detto durante la call e probabilmente si sono terrorizzati quando hanno sentito dire che ci sono difficoltà per i nuovi cambiamenti su iOS. E Wall Street quando sente problemi a supply chain va in follia totale. L'abbiamo visto nelle trimestrali precedenti, nelle ultime trimestrali. Qualsiasi società abbia detto di avere una minima difficoltà alla supply chain ha visto le sue azioni crollare anche nei casi in cui abbiano alzato la guidance e battuto le stime degli analisti. Perciò se un management in una conference call mette insieme le parole supply chain è negativo potete star certi che le azioni crolleranno. E come vedete anche Facebook e Twitter hanno seguito Snapchat e sono crollate pesantemente in after hours. Cosa che probabilmente ha spaventato tantissimo Wall Street è il fatto che la stima per i ricavi del quarto trimestre di Snapchat è stata abbassata tra 1,16 miliardi e 1,20 miliardi contro l'1,36 miliardi che era stato previsto in precedenza. Se fino ad ora i risultati erano positivi, questo abbassamento della previsione per i ricavi del quarto trimestre è chiaramente piuttosto negativo. Quindi se ci concentriamo sui risultati di questo trimestre la reazione del mercato mi sembra assolutamente eccessiva. Però il fatto che la guidance sia stata abbassata è abbastanza preoccupante. Poi c'è da dire che la valutazione di Snapchat è un tantino ricca. I ricavi per il 2021 sono previsti a 4 miliardi e 210 milioni e la market cap pre-crollo è di 118 miliardi di dollari. Il price to sales forward è intorno a 28, abbastanza ricco. Quindi forse un bel crollo era dovuto, era necessario per tornare a valori più normali e siamo ancora lontani da valori normali. Ma invece per quanto riguarda Facebook dobbiamo spaventarci? La cosa che voglio dire è che abbiamo già visto un trimestre di Facebook essere impattato dai cambiamenti di iOS e l'impatto non è stato così importante, così spaventoso. Quindi Facebook dovrebbe essere in grado di crescere abbastanza tranquillamente anche con questi problemi. Secondo gli analisti il price earning forward è di 24,3 ma compariamo un attimo il price to sales di Facebook con quello di Snapchat. La market cap di Facebook sta intorno al trilione e i ricavi previsti per il 2021 sono 119 miliardi. Questo vuol dire che il price to sales forward di Facebook è 8,4 contro il 28 di Snapchat. Quindi già ci accorgiamo che c'è una bella differenza. Poi una cosa importante da dire è che Facebook e Snapchat sono un tantino diverse. La dominazione di Facebook, Instagram e Whatsapp è veramente importante. Non penso sia una società comparabile a Snapchat, sono totalmente diverse. Inoltre Facebook è una macchina da cash flow, fa una quantità di soldi veramente pazzesca e la valutazione è abbastanza normale. Un price earning forward di 24 direi che sia onesto o addirittura troppo basso per una società come Facebook, soprattutto se lo andiamo a comparare con le altre big tech. Se lo compariamo con le altre big tech, Facebook appare incredibilmente sottovalutata. Perché ad esempio Apple e un price earning forward intorno a 25, però per i prossimi anni non è prevista crescita. Invece Facebook è una società che cresce il suo utile più o meno tra il 10 e il 20 per cento anno. Perciò teoricamente Facebook dovrebbe avere una valutazione più ricca, però c'è sempre il problema degli scandali. La società del buon Zuckerberg non ce la fa stare lontana dagli scandali. Ogni anno ne esce uno nuovo e questo ovviamente ha un impatto sul prezzo, la tiene al ribasso. Quindi se Facebook dovesse crollare pesantemente, forse potrebbe essere un'occasione d'acquisto. Io non ci investirò tendenzialmente perché ho già costruito una posizione molto grossa, a prezzi molto più bassi di questi. Forse potrei iniziare a valutare un acquisto intorno a 300, ma non lo so, probabilmente aspetterei più in basso. Ovviamente tutto il contenuto di questo video non è un consiglio finanziario, ma sono solo valutazioni che faccio io per il mio portafoglio. Infine diamo un'occhiata Twitter, anche questa sta crollando, è crollata in after hours e dovrebbe crollare oggi, e il price earning forward qua è di 169, un tantino alto, però la crescita sembra essere veramente molto alta, molto importante. La market cap pre-crollo era di 52 miliardi e il price to sales forward per il 2021 è di circa 5 miliardi. Perciò forse Twitter potrebbe essere interessante, il price to sales è 10 contro il 28 di Snapchat e l'8.5 di Facebook, però Twitter è previsto crescere veramente parecchio, con forza, e stanno intraprendendo delle iniziative abbastanza interessanti per riuscire a monetizzare meglio la piattaforma. Quindi forse potrebbe essere da analizzare questa azione, io non l'ho mai analizzata perché tendenzialmente preferendo Facebook mi sono concentrato su quella, preferisco avere il numero 1 piuttosto che il numero 2, il numero 3, soprattutto se riesco a comprare il numero 1 ad un prezzo accettabile. Perciò forse Twitter potrebbe essere interessante. Fatemi sapere nei commenti se l'avete analizzata, quali sono le vostre considerazioni, cosa vi piace e quanto secondo voi potrebbe valere questa società. Oppure scrivetemi in privato su Instagram, fate come preferite. Vi lascio il mio Instagram che è investire.con.gus. E infine diamo un'occhiata a Google, che secondo me dovrebbe essere quella meno impattata dalla situazione Apple. Però potrebbe essere impattata dalla situazione pubblicità, dal fatto che vedevamo prima che molte società stanno decidendo di spendere meno in pubblicità vista la situazione supply chain e la situazione di domanda esagerata. Diciamo che la valutazione di Google non è né troppo alta né troppo bassa, secondo me sta un po' nel mezzo. Se Apple è sopravvalutata e Facebook è sottovalutata, Google sta nel mezzo. Secondo me è abbastanza correttamente valutata, probabilmente non ci investirei a questi prezzi, però non ho intenzione di venderla. Quindi sì, Google potrebbe essere potenzialmente impattata dalla situazione pubblicità, però una cosa importante da considerare è il fatto che quando una società va a decidere di tagliare la spesa in pubblicità, taglierà prima la spesa sui player minori, quindi Snapchat e Twitter, e manterrà magari la stessa spesa su Facebook e Google, che sono quelli più efficienti per farsi pubblicità. Quindi anche questo va considerato, va considerato il fatto che Facebook e Google sono i player principali, sono fortemente dominanti in questo settore, quindi se perderanno qualcosa, se perderanno qualche contratto da qualche società, sarà meno rispetto a quello che perderanno Snapchat e Twitter. Perciò la posizione di leadership in un settore va assolutamente considerata. Per questo video è tutto, fatemi sapere se comprerete qualcuna di queste azioni con questo crollo, se lo sfrutterete, e fatemi sapere cosa pensate in generale di queste azioni, se pensate che siano sopravvalutate o sottovalutate. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!